Sindaco Angelini, ieri la percezione sulla manifestazione di Roma trappelata nei social network da parte sua era negativa, oggi è ancora così? Sì, è molto negativa. Ci hanno detto che stanno lavorando, non so a che cosa. Abbiamo chiesto a margine della riunione, perché durante la riunione era francamente parole di circostanza che noi a volte diamo quando non possiamo rispondere con certezza ai cittadini. Siamo anche noi politici, politici locali, comunque amministratori locali, conosciamo bene le parole della politica. Ci aspettavamo in una riunione tecnica fatta di sindaci e parlamentari, di qualcosa di più, di concreto. Un esempio, abbiamo chiesto a margine della riunione al Presidente della Commissione, al Vicepresidente, che non sapevano neanche di cosa parlavamo, di poter utilizzare le risorse che i comuni hanno. Siamo una provincia, le abbiamo spiegato, siamo una provincia di 300.000 abitanti, un quartiere di Roma, neanche un quartiere di Roma. Credo che far utilizzare le risorse proprie, quindi dei cittadini, per la propria emergenza, mi sembra una cosa talmente semplice da poter fare. Poi gli abbiamo detto, c'è l'IMU che viene incassata dallo Stato e viene riversata ai comuni in parte, non tutta. Quella parte che è dei propri cittadini, del proprio territorio, deve rimanere sul territorio per le emergenze. Questa è la proposta che è stata fatta da alcuni sindaci, e io ero il loro portavoce, che però francamente ci ha sbalordito quando loro ci hanno detto ci stiamo lavorando, a cosa? Poi gli abbiamo anche spiegato, attenzione, che sull'IMU, perché è la categoria D sulle capannele industriali, dove noi vengono trattenute delle risorse, ci sono dei comuni che in realtà hanno, tipo i piccoli comuni montani, che hanno delle diversità, sono diversi dal punto di vista proprio del territorio e quindi non ci sono gli iniziamenti industriali. Lì lo Stato fa un bilancio e interviene. Quindi 300.000 abitanti, lasci le risorse che ci sono nelle avanzi di amministrazione, quindi gli fai andare oltre il pareggio e il bilancio. Per i cittadini è ex patto di stabilità per le emergenze, solo esclusivamente per le emergenze. Gli lasci il trasferimento delle categorie D a quei comuni che non hanno il trasferimento delle categorie D perché non ci sono le zone industriali, gli dai un contributo. E poi loro si devono preoccupare di fare investimenti infrastrutturali, investimenti che devono ridare la dignità a questo territorio inginocchiato. Francamente io da sindaco sono disgustato di aver ascoltato qualcuno che mi dice che sta lavorando. Devono scrivere due cose. Impieghiamo cinque minuti e gliele abbiamo anche dette. Se vogliono gliele dettiamo.